Un'arte, non un mestiere, che si tramanda di generazione in generazione dal 1869. Per la pirotecnica soldi, quella ormai alle porte, la 35esima edizione dello scoppio del carro in cui è la storica azienda del Valdarno ad illuminare il carro di fuoco, elemento centrale della Pasqua fiorentina. L'evoluzione del settore ha modificato qualcosa in un'armatura che ogni anno viene eseguita con la medesima attenzione. Tenendo come punto di riferimento il rispetto delle tradizioni. Andiamo a ripetere in azienda quelle che sono le dimensioni del carro, allestire le varie particolari scenografie che intendiamo presentare e poi applicarle sul carro i giorni precedenti per essere pronto alla mattina della domenica all'uscita ufficiale. La preparazione del brindellone inizia due settimane prima di Pasqua. Agli artifici invece la pirotecnica pensa già da novembre. Per far capire l'entità dell'impresa occorre citare qualche numero. Sul carro di fuoco vengono montati oltre mille petardi, girandole, vulcani di stelle, traccianti e candele romane. Ci sono delle attenzioni perché scenograficamente è uno spettacolo diurno, quindi dobbiamo presentare cose che siano visibili e che non siano mascherate dalla luminosità del giorno, dalla luminosità del sole. Quindi cose che possono essere visibili come, a parte gli scoppi che vanno a contornare tutta la parte del carro, le varie luminosità come i bianchi forti, come i rossi, come i verdi, come i blu, a discapito magari delle cose meno luminescenti come sono magari gli effetti salici, gli effetti dorati, quelli che hanno una luminosità inferiore e quindi non possono essere visti durante la fase di urna della giornata. Tutto questo garantendo al tempo stesso la sicurezza.